Siamo nella meravigliosa Camry. Oggi è il giorno della grande festa. E una colazione da campioni è quello che ci vuole permettere a punto gli ultimi dettagli dell'esclusivissimo Royal Party. Buongiorno! Buongiorno! Oh, ma qualcuno non si è svegliato. Guarda, sono in coma. Lasciamo perdere. È il jet lag. Sì, ma sono pronta per stasera. Ah, bene. Ci stava raccontando della gita che hanno fatto con Rui. Non capisco, è un po' strano. Non mi aspettavo che lui all'improvviso facesse una mossa del genere. È la prima volta che ti corteggia o... Siamo amici da un sacco di tempo, insomma, tipo fratello e sorella. Capito la situazione? Liliana è davvero noiosa. Continuava a parlare di questo Rui e... È molto semplice. Lui ti piace o no? Ecco. Ah, sei indecisa, ho capito. Indecisa in pratica è come dire, forse... Sì. Quindi 50 e 50. Diciamo pure sì, esatto. Comunque mentre ne parliamo. Sì, brava. Se non vi spiace io faccio colazione. Brigati. Sinceramente, io non credo che accetterei un appuntamento con lui. La cosa più importante sono le scarpe. Sapete che scarpe mettere? Sì. Le sneakers di Michael Jordan. Wow, Jordan! Ovviamente. La risulta era facile. Sapete, io ho un vestito davvero favoloso. Che è tutto coperto di piume. Ah, perfetto. Così assomiglierei a uno struzzo. In pratica sì. Così se mi stanco volo via dalla festa. Eravamo tutti eccitatissimi e così abbiamo iniziato a tirarci il cibo. Lo so che non si fa, però... Uno, due, tre. Sì! Let's get it! Ok, ora tocca a te. Guarda che sono pessima. Vai, tira, tira. Due, uno. Ho paura, vai! Grande! Ok, basta. Dovremmo fare gli animatori alla festa. Secondo me saresti perfetti come intrattenitori, ragazzi. Ma voi sapete quale ballo stasera riuscirà a riscuotere un successo travolgente? Oh, mamma mia! Non credo di essere capace. Aspetta, ci voglio provare. Uno, due, tre. E vai sempre più veloce. Sei, bambina, bravo! Su, su, su! Dai, 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 dovete provare, coraggio. Ci hanno costretti a ballare perché volevano che imparassimo a tutti i costi quelle loro strane mosse. qui, allora, così, va bene. Ballava anche il cameriere. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due. È stato divertente. Non lo so, mi sembrava che Liliana fosse un po' falsa. Aveva un'aria strana. 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 Grazie a tutti.